ciao oggi andremo a parlare delle fasi di una vpn però prima di continuare con questo video vorrei fare un piccolo una piccola overview molti utenti credono che una vpn sia per esempio nord vpn quindi io sono qui con il mio computer e mi collego ad internet con nord vpn che in descrizione trovi il link se vuoi abbonarti a nord vpn quindi questo è un tipo di vpn ma cosa succede se per esempio crazy net quindi l'azienda crazy net vuole collegarsi con l'azienda di destra a questo punto dobbiamo creare una vpn chiamata anche lan to lan che cosa succede devo creare un tunnel sicuro tra la mia azienda e l'altra azienda dove potremo condividere alcune informazioni come potrebbe essere documenti di testo oppure un web server interno pensa ad esempio un database sql mysql eccetera eccetera però questi dati che viaggiano su internet in questo modo qui devono poter viaggiare in modo sicuro e soprattutto che nessuno possa modificarli in cui per questo per questo scopo ci viene in aiuto ipsec che può proteggere il nostro traffico con le seguenti caratteristiche la prima è riservatezza criptografando i nostri dati nessuno tranne il mittente e il destinatario potrà leggere i nostri dati poi abbiamo l'integrità vogliamo essere sicuri che nessuno modifichi i dati nei nostri pacchetti calcolando un valore hash mittente destinatario potranno verificare se sono state apportate modifiche al pacchetto poi abbiamo l'autenticazione il mittente e il destinatario si autenticano a vicenda per assicurarsi che stiamo davvero parlando con il dispositivo che intendiamo quindi per esempio facciamo un piccolo esempio il router di crazy net con il router di quest'altra azienda si autentificano a vicenda per verificare che effettivamente siano loro poi abbiamo l'anti replay che cos'è anche se un pacchetto è criptografato e autenticato un utente malintenzionato potrebbe tentare di catturare questi pacchetti inviarli nuovamente utilizzando i numeri di sequenza ipsec non trasmetterà i pacchetti duplicati internet protocol security ipsec è un framework che ci aiuta a proteggere il traffico a livello di rete in questa fase viene stabilita una sessione isa kmp che sta per internet security association and key management protocol questo è anche chiamato tunnel isa kmp o tunnel i che fase 1 la raccorta dei parametri che utilizzeranno i due dispositivi prende il nome di security association quindi cosa succede nella fase 1 che cosa succede nella fase 1 viene stabilita una sessione che come ho detto viene chiamata isa kmp i due router o firewall si scambiano i dati durante sempre la fase 1 e successivamente i dati che vengono così scambiati tra di loro avranno il nome di sa cioè security association una volta completata la fase 2 i che disponiamo di un tunnel i che di fase 2 o tunnel ipsec che possiamo utilizzare per proteggere i dati dei nostri utenti questi dati utente verranno inviati attraverso il tunnel i che di fase 2 i che crea i tunnel per noi ma non autentica o crittografa i dati degli utenti usiamo altri due protocolli per questo ah oppure esp ah ed esp offrono entrambi autenticazione e integrità ma solo esp supporta la crittografia per questo motivo le esp è la scelta più popolare di oggi entrambi i protocolli supportano due diverse modalità modalità trasporto quindi transport mode o modalità tunnel quindi tunnel mode il processo è composto da 5 step il processo dello scambio dei dati è composto da 5 step il primo è iniziazione quindi inizialization qualcosa deve innescare la creazione dei nostri tunnel ad esempio quando si configura ipsec su un router si utilizza un access list per indicare al router quali dati deve proteggere per quali dati deve proteggere si intende quale network deve proteggere ad esempio 192 168 1 0 quando il router riceve qualcosa che corrisponde all'access list avvierà il processo i che è anche possibile avviare il processo manualmente per il tunnel per esempio se il computer remoto ha un indirizzo il computer o il server remoto ha un indirizzo ip facciamo per esempio 192 168 10 10 io dal computer posso fare un ping verso questo indirizzo ip quindi 10.10 e il tunnel verrà tirato su dal router poi abbiamo i che fase 1 negoziamo un'associazione di sicurezza per costruire il tunnel i che di fase 1 come già detto prima tunnel isa kmp poi abbiamo la fase 2 all'interno del tunnel i che fase 1 costruiamo il tunnel i che fase 2 tunnel ipsec appunto poi abbiamo il trasferimento dei dati proteggiamo i dati degli utenti inviandoli attraverso il tunnel i che di fase 2 quindi attraverso l'ipsec e infine abbiamo la terminazione quando non ci sono i dati utente da proteggere quindi quando il traffico verso la destinazione del tunnel ipsec non non viene accessare quindi non c'è più uno scambio di dati il tunnel ipsec verrà terminato dopo un po' i che versione 1 versus i che versione 2 i che sta per internet key exchange i che è uno dei protocolli principali per ipsec poiché stabilisce l'associazione di sicurezza tra i due peer esistono appunto due versioni di che i che versione 1 è stato introdotto intorno al 1999 e sostituito da i che versione 2 nel 2005 ci sono alcune differenze tra le due versioni qua ora si usa ancora i che versione 1 poi abbiamo che i che versione 2 richiede meno larghezza di banda rispetto a i che versione 1 poi i che versione 2 supporta l'autenticazione e ap accanto a chiavi precondivise e certificati digitali sempre i che versione 2 al supporto integrato per l'attraversamento del nat necessario quando il tuo peer e ipsec dietro a un nat quello che comunemente noi conosciamo come nat traversal e infine ma non per ultimo ha un meccanismo di keep a leave integrato nei tunnel poi i vantaggi del i che versione 2 sono molti altri la negoziazione prima abbiamo l'hashing utilizziamo un algoritmo di hashing per verificare l'integrità per questo utilizzeremo omd 5 osca poi abbiamo l'autenticazione ogni peer deve dimostrare chi è due opzioni comunemente utilizzate sono la chiave precondivisa o certificati digitali poi abbiamo il gruppo di h di h sta per da fi helman credo che sia la pronuncia corretta il gruppo di h determina la forza della chiave utilizzata il processo di scambio delle chiavi il numero di gruppo più alto è e maggiormente hai la sicurezza ma chiaramente richiede più tempo per essere calcolato poi abbiamo la durata quindi il tunnel quanto deve durare più è breve la durata e più è sicuro il tunnel perché ricostruirlo significa che utilizzeremo anche del nuovo materiale per le chiavi ogni fornitore ha una durata diversa un valore predefinito comune è comunque 86.400 secondi in altre parole un giorno poi abbiamo infine la crittografia e infine abbiamo la crittografia quale algoritmo utilizzeremo per la nostra crittografia ad esempio des tri des o a e s una volta che la negoziazione è andata a buon fine i due peer sapranno quale politico utilizzare ora utilizzeranno il gruppo di h che hanno negoziato per scambiare il materiale delle chiavi il risultato finale sarà che entrambi peer avranno la stessa chiave condivisa l'ultimo passaggio è che i due peer si autenticano a vicenda utilizzando il metodo di autenticazione concordato durante la negoziazione quando l'autenticazione ha esito positivo abbiamo completato la fase 1 il risultato finale è un tunnel i che di fase 1 e il tunnel che è il tunnel isa kmp il tunnel isa kmp è bidirezionale ciò significa che entrambi peer possono inviare e ricevere su questo tunnel i tre passaggi precedenti possono essere completati utilizzando due modalità modalità principale oppure main mode e modalità aggressiva o se preferisci aggressive mode la modalità main mode quindi la modalità principale utilizza sei messaggi mentre la modalità la modalità aggressiva o aggressive mode utilizza solo tre messaggi la modalità principale main mode è considerata più sicura il tunnel i che di fase 2 o tunnel ipsec verrà effettivamente utilizzato per proteggere i dati degli utenti c'è solo una modalità per costruire un tunnel i che di fase 2 che è chiamata modalità rapida quick mode poi abbiamo e a h o esp entrambi possono essere utilizzati in modalità trasporto tunnel e infine la configurazione su un router cisco di una vpn solo da un lato poi va fatta anche sull'altro ovviamente cambiando gli indirizzi ip ma è uguale quindi che cosa ho qua ho il cripto isa kmp policy one questo numero è incrementale encryption trides hash md5 se ti ricordi o nel qualche momento fa ho detto che può essere md5 o scan autentication pre-share key gruppo 2 questo è il duffy hellman lifetime 86400 quindi un giorno crypto isa kmp key questa è la mia password address 192 68 10 1 questo è la rete che io voglio mecciare poi qui ho creato una ip access list stand vpn traffic solo per dargli il nome così quando nel caso in cui ne avessi molte di vpn so a che cosa si fa riferimento permetti il traffico di 10 della rete 10 in questo caso su questo indirizzo ip che è l'indirizzo pubblico del router remoto dove io mi voglio collegare poi nella fase 2 ip crypto ipsec transformer set tts esp trides esp md5 che sono questi qua su che eccoli qui volevo fare una parentesi graffa ma non ci sono riuscito poi ancora crypto map my vpn 10 è un numero incrementale può essere 1 2 3 4 5 eccetera eccetera ipsec isa kmp set peer in questo caso 10.1 set transformer set match address vpn traffic quindi gli sto dicendo match a questo traffico qui di questa access list qui e poi attesto la mia vpn sotto all'interfaccia 0 1 con il comando crypt map my vpn e a questo punto poi configurando il router remoto la vpn verrà stabilita ti ringrazio aver guardato questo video e al prossimo